Musica Nuovo appuntamento con l'informazione di Oggi a Nord-Est. Dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al coronavirus in Friuli, Venezia e Giulia sono 3.262, 7 più di ieri. Le persone positive al coronavirus sono 391, 21 in meno rispetto alla giornata di ieri. La terapia intensiva registra il ricovero di un paziente per accertamenti diagnostici, mentre i ricoverati in altri reparti rimangono 51. Oggi si registrano due nuovi decessi, l'ho comunicato il vice governatore con delega alla salute e protezione civile Riccardo Riccardi. Dall'inizio dell'emergenza, informa una nota della regione, ci sono stati 1.384 casi positivi a Trieste, 981 a Udine, 684 a Pordenone e 213 a Gorizia. I totalmente guariti invece ammontano a 2.538, 26 più di ieri, i clinicamente guariti a 55, le persone in isolamento domiciliare 284, i deceduti 188 a Trieste, 73 a Udine, 67 a Pordenone e 5 a Gorizia. Sono 8 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Veneto, per un dato totale di 19.125 soggetti dall'inizio dell'epidemia. Nessun decesso è avvenuto ieri sera, il dato complessivo dei morti resta perciò fermo a 1.898, le persone positive 2.025, i negativizzati virologici 15.202, i pazienti in isolamento domiciliare 2.142. In terapia intensiva rimangono 34 malati, 426 ricoverati in area non critica. Nel 2019 le operazioni totali effettuate dal Fondo di rotazione per le iniziative economiche FRIE sono state 64 per un importo deliberato pari a quasi 167 milioni. Sono i dati diffusi dalla regione Friuli-Venezia-Giulia che ha presentato oggi a Udine l'attività del FRIE per l'anno 2019. Si conferma dunque l'andamento positivo dell'anno precedente, seppure con una riduzione delle concessioni ma con un aumento delle erogazioni. Le domande complessive giunte nel 2019 al FRIE sono state 104 per un valore di 295 milioni, 12 a Trieste per 45 milioni, 14 a Gorizia per 42 milioni, 31 a Pordenone per quasi 88 milioni, 47 a Udine per 120 milioni. Andiamo a Venezia, il terminal autostrade del mare del porto di Venezia ha visto oggi riattivarsi uno dei settori di più recente acquisizione per lo scalo, quello del trasporto di automezzi che nel 2019 ha registrato movimentazione portuale equivalente a circa 38 mila tonnellate, di cui oltre 20 mila in imbarco e circa 18 mila in sbarco. Dopo lo stop avvenuto all'emergenza pandemica è giunto presso il terminal di Fusina un convoglio ferroviario carico di 240 automobili provenienti dalla Romania. I mezzi sono destinati al mercato interno e ai mercati vicini e concluderanno il loro tragitto via terra. Cronaca, un camionista sloveno di 29 anni è stato arrestato con l'accusa di detenzione e fine dispaccio di sostanze stupefacenti. Nella cabina del suo tir sono stati scoperti 16 kg di marijuana. L'operazione è stata condotta dalla polizia stradale di Gorizia con la collaborazione della squadra mobile. Nel corso di un controllo il mezzo pesante è stato fatto entrare nell'area di servizio di Gonars lungo la 4. Le verifiche hanno evidenziato una incongruenza sul crono tachigrafo, le giustificazioni del conducente in merito. Ad un presunto precedente controllo da parte della Guardia Civil Spagnola non hanno convinto gli agenti che hanno approfondito la perquisizione scoprendo la droga. L'autotrasportatore è stato condotto nel carcere di Gorizia. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale 246 nel tunnel che collega il comune di Cornedo a Cereda per uno scontro tra un auto e un camion. Ferito un giovane è accaduto verso le 16 di oggi. I pompieri arrivati da Arzignano hanno messo in sicurezza i mezzi. Lavorato con cesoie di varicatori martinetti idraulici per liberare il 26enne di Valdagno. è rimasto incastrato tra le lamiere della Renault. L'automobilista è stato stabilizzato dal personale del sanitario del SUME e trasferito a egli ambulanze in ospedale. Illeso l'autista del camion, i carabinieri e la polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica dell'accaduto dell'incidente. Ed ancora la partecipata UCIT ha operato con criteri di efficacia ed efficienza ed economicità assicurando un adeguato standard qualitativo all'attività svolta e dal prossimo 1 luglio avrà la competenza in materia di accertamento e di ispezione degli impianti destinati alla climatizzazione invernale ed estiva sull'intero Friuli Venezia Giulia. Lo ha indicato l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli nel corso dell'assemblea dei soci di UCIT SRL, la società totale capitale pubblico controllata e coordinata dalla regione che si occupa delle verifiche sullo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici degli edifici, oltre che ad accertare la sicurezza degli impianti di utenza gas e di verifiche in materia energetica. Soprattutto in questa fase della ripresa lo sport può avere un ruolo da protagonista sia dal punto di vista educativo sia da quello sociale, sono pienamente favorevoli e quindi alla costituzione di un tavolo di lavoro regionale condiviso con il CONI e con il CIP Veneto. Così l'assessore allo sport della regione del Veneto Cristiano Corazzari ha commentato l'incontro avuto insieme a Federico Caner, assessore al turismo, e Elena Donazzan, assessore all'istruzione, con il presidente del CONI Gianfranco Bardelle e il presidente del CIP Veneto Ruggero Vilnai. Ed ora la linea passa alla redazione di Treviso. Mareno ciclista muore travolto da un camion immediatamente partita la telefonata ai soccorsi, ma le ferite erano troppo gravi e per il ciclista non c'è stato nulla da fare ed è morto. Ecobonus per 266 mila immobili. Nella marca un business da 16 miliardi. Sette edifici su dieci hanno la classe energetica più bassa. Aziende sono perplesse, dicono, in pochi concederanno lo sconto in fattura. Otto artigiani su dieci in cassa integrazione. Primi contratti non rinnovati in provincia di Treviso. Oltre 14 mila piccole e medie industrie sono sinora ricorse alla CIG. Maschietto ha detto a rischio la tenuta dell'occupazione. Bonus bici e boom di vendite e riparazioni. È il momento di nuova mobilità. Massimo Cedron, titolare di Prezza Seicl, a Santa Bona, ha detto la chiusura forzata si è fatta sentire dal punto di vista economico, ma dalla riapertura o ancora più lavoro di prima. Totalmente risarcito un risparmiatore che investì in titoli in Veneto Banca. Importante sentenza del Tribunale di Brindisi nella causa intentata dall'avvocato di Conf Consumatori. Le azioni vendute da Banca a Puglia. Rosario Moreno, Treviso per Radiodiffusione Europea. Domani sul Friuli Venezia Giulia di primo mattino, poco nuvoloso su tutte le zone, in giornata variabile sulla zona montana, con la possibilità di qualche pioggia sulle altre zone. Cielo da poco nuvoloso a variabile, con bassa probabilità di qualche locale rovescio. Sulla costa Bora moderata, nelle ore centrali, potrebbero prevalere le brezze specie ad ovest. Passiamo al Veneto, tempo variabile. Al mattino residui a nuvolamenti in alcuni settori montani e sulla pianura sud-occidentale, seguiti da crescenti schiarite nel pomeriggio, nuvolosità irregolare, specie su zone montane e pedemontane, alternata a schiarite più ampie in pianura. Previsioni a cura di ARPA FWG Meteo e di ARPAV, Agenzia regionale, per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Per il momento dal nord-est è tutto, appuntamento alla prossima edizione.